Ciao e benvenuti sul nostro canale di supporto dell'Aiuta. Questo breve video vi spiega come poter verificare lo stato di un ordine fatto con DEL. Così potrete monitorare l'avanzamento dell'ordine e trovare molte altre informazioni che possono esservi utili. Nella descrizione del video abbiamo riportato tutti i link di supporto che trattano questo tema, comprese le domande frequenti per il supporto dell'ordine. Quando siete sulla pagina DEL.IT, cliccando sulla voce Supporto, potete trovare direttamente il link di supporto verso Assistenza per l'ordine. Lo stesso link lo trovate anche nella pagina iniziale DEL.IT.IT. Cliccando sul link si aprirà la pagina dove potrete eseguire la ricerca del vostro ordine. Se non avete ancora il numero di ordine definitivo, che comincia con il numero 9 ed è composto da 8 cifre, o semplicemente non ve lo ricordate, potete espandere la voce Altre opzioni di ricerca. E qui potete eseguire una ricerca partendo dal codice cliente oppure dal numero di preventivo. Per sapere bene cosa significano i vari termini legati ai numeri di ordine cliente ricevuto a internet, espandete Trova le informazioni sull'ordine. E qui avrete la descrizione per ogni voce. Un altro modo per risalire all'ordine, se non vi ricordate alcun numero, è passare tramite il vostro account DEL che avete creato al momento dell'ordine. Cliccate su Il mio account e nella pagina che si apre inserite la mail con quale avete fatto l'ordine e la password. Se non ve la ricordate, come per tutti gli altri siti, cliccate su Password dimenticate e potrete corrarne una nuova. Una volta entrati nell'account troverete il vostro ordine. L'ordine rimane attivo per due anni. Nel caso, qui potete anche aggiungere un ordine se non lo vedete nella lista. Cliccate su Aggiungi ordini mancanti e inserite i dati relativi all'ordine. Sempre qui, nel vostro account, è disponibile anche il codice cliente se vi serve. Se avete tutte le informazioni necessarie, ritorniamo alla pagina per verificare lo stato dell'ordine. Inserite quindi il vostro numero di ordine che inizia con 9 e cliccate su Trova il mio ordine. Si aprirà una pagina con le timeline con le varie fasi dell'ordine e le date indicative di spedizione e consegne ed eventuali modifiche. È possibile che uno stesso carrello internet sia stato suddiviso in più ordini, questo per questione logistiche o di produzione. Ad ogni modo, se avete qualche dubbio o cercate alcune risposte e domande sempre relative ad un ordine Dell, se scorrete in fondo alla pagina dell'assistenza per l'ordine, troverete un link che vi porterà alle domande frequenti sul supporto per l'ordine. Qui avrete informazioni dettagliate sulle date di spedizione e la consegna, che spesso vengono confuse. Per farla semplice, la spedizione è quando parte da Dell, la consegna è quando vi arriva a casa. Tra le due date ci sono i tempi di trasporto. Trovate anche le varie procedure e link per richiedere supporto o risolvere problemi con un ordine. Oppure scrivici tramite Twitter su Dell'Aiuta. Abbonati al canale perché troverai altri video di supporto ed utilizzo di Windows 11 e del PC in generale e riceverai le notifiche dei nuovi video. Ciao e a presto!